Governo del territorio urbanistica in Abruzzo nelle autonomie differenziate, temi trattati nel momento di confronto organizzato dalla sezione regionale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. Al centro dei lavori, la divaricazione che si osserva tra la dimensione del governo del territorio, che ad esempio nella proposta di autonomia differenziata sembra riguardare solo l'azione della regione e obiettivi come la tutela dell'ambiente, il contrasto al consumo di suolo e quella dell'urbanistica, che rischia di rimanere schiacciata dalle esigenze riconducibili alle regole edilizie, un fenomeno che si osserva anche nella proposta di legge urbanistica appena approvata dall'Aggiunta regionale, verso la quale l'INU ha una posizione molto critica nella speranza per l'Istituto che le loro osservazioni vengano recepite. Noi abbiamo fatto una osservazione di 20 pagine, molto dettagliata, con la quale abbiamo espresso una serie di perplessità. Innanzitutto il fatto che l'urbanistica sta cambiando e questa proposta di legge regionale continua a pensare ad un'urbanistica tradizionale. E poi siamo convinti che l'occasione di rinnovare la legge urbanistica sia quella di innovare e trovarci in una condizione completamente diversa. Quella che va più vicino alle aspettative dei cittadini e quella che si fa carico delle grandi questioni della sostenibilità e della collocazione geografica dell'Abruzzo rispetto al mondo. La deriva che sta prendendo il governo delle autonomie differenziate per l'urbanistica è particolarmente pericolosa perché porta da un lato a divaricare l'attenzione alle questioni della sostenibilità verso una dimensione di scala vasta e a ridurre invece l'urbanistica semplicemente a una normativa edilizia. Noi vogliamo che invece questi due aspetti vengano ricompresi in un trattamento unitario capace di unire il globale con il locale cioè le questioni di carattere generale con una progettazione degli spazi urbanistici anche a scala locale.